Presentato presso il primo piano dello stabile Ex-Combipel a Mociano Sant'Angelo District, un nuovo e innovativo spazio di condivisione, lavoro e studio. Una struttura rivolta non solo ad aziende e professionisti per eventi e riunioni, ma anche a scuole, studenti, cittadini nella ricerca di un posto dove lavorare, studiare, pensare e trovare spunti di riflessione, confrontandosi per una crescita culturale continua. Sì, uno spazio riservato alla cultura, ai professionisti, alle aziende che hanno la voglia di utilizzare degli spazi in condivisione, ma soprattutto degli spazi che mettono al centro le persone. Le novità importanti sono che viene riqualificato un'area che è quella dell'Ex-Combipel, un'area strategica per la provincia di Teramo e non solo. In quest'area molto conosciuta sul territorio abbiamo creato un progetto completamente rinnovato con delle aule estremamente tecnologiche, con funzionali e tecnologiche sia per il lavoro in condivisione, ma anche per quanto riguarda la possibilità di formarsi e di poter effettuare meeting e convegni. C'è anche la possibilità di usufruire di spazi gratuiti? Assolutamente sì, per andare incontro anche alle esigenze lavorative, anche di professionisti che non hanno la possibilità o anche alle esigenze di poter utilizzare degli uffici in classica locazione, abbiamo adibito delle postazioni gratuite giornaliere e questo sempre per stimolare sia la condivisione tra le persone, ma soprattutto per rendere il lavoro anche accessibile.